Se volete acquistare i crediti FIFA a basso prezzo andate su fifacoin.com e avete il 5% di sconto con il codice Granos Cioè figa Bella vecchi drama di bentornare qui sul canale Granos e finalmente torna il periodo in cui io farò tutte le intro di questo fottuto mondo Perché c'è Rod e ti dice chiamare E come abbiamo detto, no però non sappiamo ancora come chiamarla questa serie quindi ditecelo voi Vabbè ditece come chiamarla voi perché non vogliamo chiamarla Rod e ti dice Perfetti cazzo allora questa qui la nostra rosa per te ho fatto qualche acquisto All'inizio ho giocato due partite con i soldi iniziali che avevo ho fatto qualche acquisto e ho comprato Iago falche e lì aic Lì aic è troppo forte Poi digne e poi questi qua me li sono trovati paletta tonelli l'ho trovati proprio all'inizio Con i pacchetti iniziali e niente ci manca da prende un portiere Un atti un cc e un coc della serie a Ma perché manca tutta la squadra Sapete già cosa dovete consigliarci a poco perché noi siamo rimasti con 300 adesso Si ha poco da prendere per fare una serie decente intanto non ci consigliate subito i giocatori che costano 5.000 Consigliate i giocatori che costano sui 3,400,500 tipo Iago falche e gli aic E perché adesso se non ci possiamo permettere quelli più alti cominciamo e compriamoci quelli più bassi Poi piano piano andremo a comprarci quelli un po' più forti Vai giochiamo partita È online? Giochiamo partita si Avanti È giusta così Quello là c'è Pettersen Come cazzo fa vece sta squadra? E va bene Come cazzo fa? E ora è scioppato dai E sti cazzi chiedi che vuol dire Oddio ma Florenzi è terzino Guarda Perina in faccia Vabbè cambia e metti terzino Comincia la stagione della Muammel Salah È uguale Io l'ho chiamata AC2 Ah l'AC2 si chiama? AC2 Eccola Come sul fantacalcio Oh incredibile Che è? Fuorigioco Dai Dobbiamo cominciare bene Ok Subito gli Aic Oh se ne va L'ha visto Per un Azi Mandalo giù Bella Bella per Iaco E no Perché hai tirato? Cabella Cabella che non c'entra niente Però va Sopra Per gli Aic C'è Pettersen al centro Ancora lui Hai visto? Hai visto? Che era? Eh che Oddio cabella L'avevo fatto con un basso Io il cross Guardalo Pettersen al centro Lo devi fare Eh mancava Sì no Eh che un po' Ricore 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 No ma che Palla loro Addirittura Perché la da Quello più lontano Ogni volta Figlio della merda Eh Guardate eh Guarda Guarda che culo Dai Su Ma non è possibile Sì ma si passaggia Non ho rotto il cazzo Cioè ma perché Sono passaggi del merda Hanno fatto su FIFA E Pia gliela ha un anzi Che è mo No Non me fate a fallo No ma serio No Vattene da solo Vattene da solo e fallo No però Rigore Ok Però potevi segnare Cazzo No perché me l'hai preso Bacca Mamma mia un anzi Fa killer Proprio Eh scusa Mi so fatto via Da Da Foga Ma è un anzi Quando saremo giocando un po' più forti Potrei pure farlo No ma perché mi sono ricordato Il gol contro l'inter Contro l'inter Capito Facchia Oh guarda che culo Ma io non ci voglio Credo Ma per che Ma per quale cazzo di motivo Cagli on poi Tutti rimpalli precisi Tutti rimpalli precisi Tutti 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 Guardalo 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 Vai lo devi fai Dai 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 Non rientra Rigore Come no Dai cazzo Come no Come fai non da un rigore del genere Come cazzo fai non da un rigore del genere Provalo Oddio A noi no Rimpallo no No Chi è Arzalan Oddio Vaffanò No ma questo sta anche a per culo Ma seriamente Eh vabbè No io non ci voglio credere Guarda guarda tutti i rimpalli suoi Onanzi ha rischiato male Ma per che Ma più che altro io non capisco perché Onanzi non va sul pallone ma va sull'uomo Oh Se si riesce a togliere palla che dice La punizione di cosa No 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 Alla lì hai c'era rigore tre volte cioè No 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 Porca anzi Porca dici porco Maggia Porco di un fallo Cristo dio da dietro Che è venuto Cesar prote Bello eh Mazza oh Ti senti pure forte eh No vabbè È fuori spero È finita proprio Vabbè la prima partita è andata così Andiamo subito alla seconda E vabbè vedremo Allora benissimo Iago Falke si è infortunato Anche Gabella I due giocatori più forti che abbiamo Siano infortunati Ma abbiamo comprato Zapata Perché non li potevamo permetterci Quindi abbiamo un attaccante serio adesso Cioè per modere di E questi due Gabella Non sappiamo com'è Allora uno ci mettiamo piatti E qua Che cazzo ci mettiamo Noi da adesso Jones ATT Che c'ha 86 Uno che cuore Che squadrone eh Che si appresta a giocare Mamma mia Questo qui magari Non li mettiamo dentro Ok E abbiamo comprato Zapata Quindi adesso ci manca Quando rientrerà Iago Falke Ci manca da prendere Un TC E un COC Diciamo Però un COC bello forte Perché comunque Gabella È un portiere anche Allora Ovviamente siamo a zero punti Quindi andiamo a cominciare un'altra partita E speriamo che vada meglio Anche se in realtà Non si confonde il rosso con il verde Porca puttana Io non capisco gente Che c'ha già sta squadra Che Pempe È il top adesso Sì C'hai capito D'Ambrosio Consigli C'hai Deir Niente le spallate Non sono più regolari Su questo FIFA Non si fa più No ma più che altro C'è Le donne si scannano Sì le donne si scannano L'uomini Hanno vertito delle cose In pratica Mamma mia Sara 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 tocca il cilicone E si gilla la porta Via Duvan Oh Duvan Dai No Vabbè Scialla Arrivi dai Non arriveremo Si sa che è andata Vabbè Perché è andata là Non lo so Guarda Jones Oh Jones 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 Ina Va per Zapata Perché hai esitato Eh non è che ho esitato Adem Iaic Dove ha quello Perché va a porta Tira Eh che cazzo aspetti Non posso tirare da là È un Azi Che cazzi Ma non entra in porta Non c'è manca entra in porta Con un Azi Appunto Non dovevo giocare Con questi giocatori C'è C'è Oh Zapata Duvan 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 Levate dal cazzo Duvan Non metti le tue Levate dal cazzo Che me stavo a testare L'altro Duvan Jones ha fatto tutto il lavoro Giants in atta tata Mamma mia gremito lo stadio per acci tua bomber du van zapata SSC Petronas grandissimo lui che acquisto da una scossa la squadra vabbè teresa è nato lo diva porco Oddiiii Donazzi Quelle ragioni che palle che cazzo Non secco uno Ma che cazzo C'è Ma non gioco più Oh tita Onazziiii Porca puttana Non vuole fare Posso ora? Posso? No Non posso Io posso Io posso puttana Uno io si Jones L'ha segnato Onazzi No Jones E' Onazzi Guardate che cazzo toccava quel fan goal Onazzi Jones Bella coppia E' be' sono uguali Eccolo E' piatti Madonna che Bomba Ma che bomba ha tirato E' piatti Piedi E' piedi Cri a 0 Ma raga che bomba ha tirato Ah no è Arslan E' piatti E' Arslan E' piatti Beh perché Arslan non sai cosa fare Ma sono io o sui te? Ah sono io Siete Oddio non lo sai neanche te quello che hai fatto Passa Sta' buono Oddio che polla che devi farti da giro Che polla Che devo farti da giro Perchè non mi ero ancora reso conto di essere io Diversa la cosa Porco te ce lo voglio tirare Dai dai Tiè Precisa 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 C'è E' la perfetta Che god E' merda Mamma mia Zavata Zavata Jons Arslan Paletta E' va bene Una sconfitta e una vittoria Gioie e dolori Croce e delizia questa squadra La citua Niente A questo episodio è finito Quindi noi vediamo i commenti E aspettiamo Aspettiamo i vostri consigli su come migliorare la squadra Calcate che apriamo dopo questa partita Vi diciamo esattamente quanto abbiamo Diciamo 200 più o meno prima Più 560 Quindi più o meno abbiamo 800 da spendere Dobbiamo trovare un cc Da Un cc Un cc Un cc Un cc E' niente Intanto io penso che farò un po' due compravendita Quindi qualcosa riuscirò a tirassù Anche se non molto Perché non la so fare tanto bene Noi ci becchiamo al prossimo video Come sempre se vi piace questa serie Dici anche un nome su come chiamarla Roto Perfect Him Roto Tu Cazzi e Mazzi E niente Lasciate il like e bella Ci vediamo al prossimo episodio